Ho comprato il gelato del cucciolone, ora vi mostro le barzellette 2023 Scotex by Sio Ve le reggo Anche la prima scenetta gioca sul modo di dire tra palla e il pallone Stanno giocando a palla E il primo personaggio dice Passami la palla E l'altro dice Palla, c'è una zorra al telefono per te La seconda scenetta, girando il biscotto È ambientata, credo, sui banchi di scuola Il bambino dice alla gallina Mi presti una penna? Tu ne hai tante E la gallina gli risponde Come sai della cartoleria di mia mamma? Dovrebbe far ridere perché la gallina ha tante penne Comunque, il prossimo gelato cerca di farci ridere con il personaggio che ci dice L'unica cosa che non mi piace del gelato sono le ruote E l'altro gli dice I gelati non hanno le ruote E il primo personaggio gli controbatte Appunto Girando il gelato troviamo scritto Siamo in ambito sportivo Ho fatto un canestro E ci viene mostrato il cane nel canestro Quindi l'altro gli risponde 2 a 0 per 3 Invece in quest'altro cucciolone possiamo vedere una ragazza al parco con il suo cane Che gli dice Fufo, sì, la ua è la pallina E il cane gli risponde No, grazie, sono pieno Quest'altra parte All'ora di ginnastica troviamo questa scenetta Jonno che si scalda al fuoco E l'altro che dice Jonno esagera sempre con il riscaldamento pre partita Quest'altro cucciolone invece è ambientato tra i panchi Abbiamo il personaggio di turno che chiede La risposta alla terza domanda? E l'altro gli risponde La devi scrivere nello spazio vuoto sotto la terza domanda Questo invece gioca sul significato della parola colmo Questa chiede Sai qual è il colmo di un bicchiere? E l'altro gli dice No, qual è? E lei gli risponde Quando è pieno, fino a qui Questa vignetta ci rappresenta una signora Che vede, penso, un cane E quello sopra al cane la ringrazia Dicendo Grazie, l'ho preso al bar In mano, se noti, a un cucciolone Vedo tre gusti Quindi dovrebbe essere quello grande Invece quest'altra vignetta Su Jonno l'abbiamo già trovata prima Quindi non ve la leggo E quindi si prosegue al prossimo cucciolone Che è questo Metà E gli altri gli dicono Roborta Ha sempre avuto problemi con gli accenti Girando il cucciolone troviamo la vignetta sull'esame di nuoto Il personaggio più grande dice Oggi faremo un esame di nuoto a rana L'unica a sembrare felice Che è la rana Che dice Evviva! Sopra quest'altro cucciolone Abbiamo una vignetta estiva La sciura che con la sua rete ha catturato il sole Dice Presto portami la crema solare Neghi otto! E l'altro gli controbattano Comprendere il sole Intendeva un'altra cosa Girando il gelato sul biscotto Invece troviamo quest'altra vignetta Lo sai cosa fanno? Sette cani arriva al mare? E l'altra gli risponde no E quindi l'altro gli risponde di nuovo Neanch'io! Sopra l'ultimo cucciolone Invece io ho trovato la vignetta Che hanno messo Anche sopra la scatola dei gelati Questa dove la tizia dice al cane Sei bravo a fare il cagnolino? E il cagnolino gli risponde Grazie! Ti aspetto nel mio prossimo video Ciao!